ciao a tutti sono oreste maria petrillo e ho appena ricevuto il pacone sia il libro che sto già leggendo sono ancora la parte introduttiva però è davvero davvero interessante anche perché vi è l'introduzione quindi vi è quella che è la vita che ha portato poi luca a diventare quello che è diventato e poi il mega e pesantissimo manuale pieno di slide del corso che ho acquistato online marketing 2.0 corso che avendone studiati tanti posso dire che di qualità innanzitutto unica per quanto riguarda il mindset e mi ha dato anche a spunti nuovi su cui non avevo riflettuto per quanto riguarda il marketing in sé poi vi sono dei corsi a parte che quello della finanza personale concetti a me non nuovi avendo studiato sia chiusa chi è che gli altri però sempre importante approfondirlo soprattutto con un imprenditore che da un piglio italiano quindi per il popolo italiano non per il popolo americano ottimo il corso sul google adwords già quello poteva essere un corso a parte anche sulla parte di facebook advertising a parte vabbè poi delle interviste insomma di bonus non mi non mi soffermo perché il corso è abbastanza abbastanza lungo quello che voglio fare oggi però è fare una recensione ad un corso che non ho acquistato quello che è della vendita telefonica d'assalto però nel mio collaboratore nel mio team ho preso un venditore telefonico d'assalto quindi che ha studiato con la big luca international di che cosa mi occupo lo dico perché è importante per sapere per dare valore al venditore e quindi al corso mi occupo di sono un avvocato internazionalista e mi occupo di insieme al mio socio fabbio santoro l'avvocato fabbio santoro di internazionalizzazione per le imprese italiane nonno quindi imprenditori siamo in italia quindi parliamo di imprenditori italiani che vogliono aprire la loro società limiti nel regno unito ma restando in italia o comunque anche insomma volendosi volendo trasferire trasferirsi nel regno unito diamo la possibilità di avere la limited col conto corrente fisico eccetera insomma e le altre facilitazioni oltre alla possibilità anche di andare off short ma questo perché ho detto ho parlato del mio lavoro perché è importante in quanto il lavoro del venditore del funnel poi che porta l'acquisto della consulenza o del videocorso è un pubblico diciamo il pubblico un pubblico più difficile più attento che si parla di un settore dell'internazionalizzazione che ha molte paure fra cui quella della brexit proprio il rapporto al regno unito quella della cosiddetta esterovestizione societaria ed altre paure quindi il lavoro che ha fatto il venditore è un lavoro eccelso perché senza venditore davvero avremmo chiuso molti meno meno contratti poi il venditore è quello che è stato più vicino alla base quindi al nostro pubblico ci ha potuto dire come correggere in itinere la mira per andare a bersaglio insomma è stato formato veramente in maniera eccelsa quindi ringrazio Edoardo Baldini che mi ha dato il nome del venditore mi ha consigliato il corso e con quello il quale sto sempre a contatto ciao e ci vediamo presto insomma su questi schemi